Ciao ragazzi, momento difficile, però coraggio, è proprio quando la notte è più buia che l'alba ormai vicina. Vi domanderete ma cosa possiamo fare adesso che siamo confinati in casa? Possiamo organizzare la nostra idea di autoimprenditorialità, anche alla luce degli eventi che sono appena accaduti. Allora cominciamo subito con una buona notizia. La storia ci insegna che dopo un'epidemia il mondo ha sempre conosciuto una nuova era, una rinascita e quindi cerchiamo di pensare al futuro in modo fiducioso, in modo positivo. Allora in quest'ottica la parola d'ordine è prepararsi. Prepararsi significa farsi trovare pronti per ripartire quando il virus sarà prima controllato e poi sconfitto, perché questo accadrà sicuramente, non sappiamo dire quando, ma presto nascerà appunto una nuova era e noi dovremo essere pronti per affrontare quella nuova vita che avremo di fronte. Chi credete che abbia le migliori caratteristiche per poter affrontare un mondo nuovo? Io dico i giovani, io dico voi, perché siete tecnicamente anche, come dire, naturalmente più inclini a comprendere il cambiamento. Già nella rivoluzione digitale avevate dimostrato delle capacità e degli adattamenti unici rispetto alle altre persone, alle altre generazioni. Ma nel mondo che verrà sarete chiamati ad avere delle intuizioni strategiche, anche nel mondo del lavoro. Vi chiederete, ok, ma dopo questa emergenza ci sarà una grande rinascita, ma io come mi posso preparare? Beh, allora facciamo un quadro sintetico, con due modalità. Il primo punto con delle azioni rivolte verso l'esterno, il secondo con delle azioni rivolte verso l'interno, verso voi stessi. Al primo punto, per le azioni rivolte verso l'esterno, di nuovo abbiamo due soluzioni, una di utilizzo immediato e una di utilizzo nel medio e lungo termine. Nelle soluzioni che potete fare immediatamente ci sono ovviamente quelle che da casa si possono attivare immediatamente, utilizzando per esempio il web in modo intelligente. Cioè apprendere concetti utili alla nostra crescita professionale e personale, magari cercando corsi online, a volte anche gratuiti, su temi quali self-employment oppure self-empowerment, anche perché internet è di fatto un grande acceleratore di conoscenza e noi non sempre lo utilizziamo al suo meglio. Possiamo fare le domande adatte su Wikipedia, su Google Translator, sui termini che non conosciamo, che conosciamo anche solo in modo, come dire, approssimativo. Insomma, dobbiamo rimetterci in gioco. Tutti i comuni saranno interessati anche economicamente alle iniziative di ripresa, non c'è solo YouTube. Immagino che tutti conosciate Wikihow perché è un modo gratuito per visualizzare dei tutorial in grado di potervi insegnare a fare tutto. Contiene 19 categorie diverse. Non ci sono solamente i tutorial sul fai-da-te, ma anche temi che vi riguardano da vicino per il vostro futuro professionale. Penso all'informatica certamente, ma anche alla finanza, anche al mondo del lavoro in generale. Questo non sostituirà certamente lo studio, però può essere un utile strumento per confrontare le vostre conoscenze nei settori nei quali vi sentite un po' alle prime armi. Allora, non mancheranno le risorse economiche, ma prima di poter pensare a quelle necessità, a quelle esigenze, voi dovete ricordare che lo scopo di un'impresa è la sua sostenibilità. Cosa vuol dire sostenibilità? Vuol dire preoccuparsi di una ragionevole certezza che i ricavi, cioè gli incassi che provengono dalle vendite, siano sempre superiori ai costi che dovete sostenere per mantenere la vostra impresa. Se no, bisogna proprio cambiare progetto, perché i soldi che eventualmente vi fossero concessi servirebbero solo ad aumentare le perdite, ok? Bene, per le soluzioni di medio periodo, in realtà la proposta è semplicissima. Comperare e leggere con attenzione un quotidiano cartaceo tutti i giorni, soprattutto con attenzione a quello che è il fascicolo locale, perché magari non immediatamente, ma certamente nel medio termine vi regalerà delle informazioni che voi potrete collegare fra di loro in modo efficace per la vostra impresa. Passiamo al punto 2, azioni rivolte verso voi stessi. Anche qui ci differenziamo con due diverse tipologie. Se avete già un'impresa oppure se ancora non avete un'idea di impresa. Se, in quest'ultimo caso, se non avete ancora un'idea di impresa, cercate di osservare con attenzione la domanda di servizi che possono prevenire dai settori più interessati da questa emergenza. Certamente potete pensare ai servizi alla persona, ai servizi di assistenza in generale, ma in particolare io direi di fare attenzione alla consulenza a domicilio, anche informatica, ma anche sanitaria, scolastica e i servizi per la casa. Questa attenzione, secondo me, dovrebbe essere particolarmente attenta, esigente, nei confronti delle persone sole o che vivono in frazioni di comuni al di fuori dell'area metropolitana. Se invece avete già un'idea di impresa, è bene pensarla alla luce di ciò che è accaduto, cioè l'emergenza sanitaria. Ha modificato qualcosa del vostro progetto? Quante persone dell'area geografica nella quale volete lavorare hanno bisogno ora, in un modo non soddisfatto o soddisfatto parzialmente, del servizio che voi volete offrire? Fatevi queste domande. Di nuovo, domandatevi se i ricavi potrebbero superare i costi, quanti clienti reali o potenziali ci sono per quell'impresa nel territorio in cui volete andare ad operare, quanti concorrenti ci sono, a che prezzi offrono i loro servizi. Non rinunciate ai vostri progetti. Ricordate l'importanza dell'umiltà, soprattutto agli inizi, è meglio provare un lavoro che non si conosce seguendo i principi del vecchio apprendistato, pensando più all'apprendimento piuttosto che al guadagno. Non dimenticate che occorre tempo per apprendere una professione. Nella vita conta più la tenacia del talento. Infine è vero che il progetto è dedicato ai giovani, certo, ma ricordatevi che è giovane solo chi non smette mai di voler imparare. In bocca al lupo.